Che cosa sta succedendo? Un gran pasticcio, nel senso che la legge prevede che tutti noi si debba pagare l'Imu sui terreni agricoli il 26 di gennaio, quindi da qui a pochi giorni. Dopodiché ovviamente c'è stata una posizione da parte degli enti locali e hanno vinto il ricorso, quindi c'è una sospensiva che va al 6 di febbraio. Quindi oggi chi dovrebbe pagare e non ha avuto informazioni alcune da parte dello Stato su cosa fare, lunedì vado a pagare, non vado a pagare l'Imu, anche perché poi il Consiglio dei Ministri, l'unico che è titolato, perché anche l'ha istituita questa tassa, l'unico titolato a dire come il contribuente dovrebbe comportarsi, ha deciso bene di riunirsi non oggi, non domani, non parliamo di domenica ovviamente, ma neanche lunedì, ha deciso di riunirsi due giorni dopo la scadenza presunta del pagamento, insomma un gran pasticcio. Il contribuente che cosa dovrebbe fare lunedì?